Questo è il nostro disco, si intitola Glitterball E' un disco autoprodotto, lo trovate in vendita su iTunes e ai nostri concerti Ci sono nove tacce all'interno, istruzioni per uso Con i due pollici premere verso il centro delicatamente E sta bene il disco, mi fanno buon uso Non finisce qui E dentro ci sono tante immagini e tante informazioni Convece una volta in questo video Grazie